Aumenta il numero delle persone che si ammalano di AIDS ma lo scoprono troppo tardi. Nel mondo 14 milioni di individui non sa di essere sieropositivo, in Italia uno su quattro. In Europa e la Russia, il paese dove l'HIV è più diffusa e si è trasformato in una vera e propria emergenza. Nel resto del mondo il continente più colpito è l'Africa, con 4.000 nuovi casi al giorno. L'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è puntare su una maggiore informazione. Oggi che si celebra la ventottesima giornata mondiale contro l'AIDS. La prima fu nel 1988. Nel 2015 il nostro paese si è fermato al tredicesimo posto in Europa per le nuove diagnosi. I malati negli ultimi anni sono lievemente calati. Erano 4.183 nel 2012, 3.845 nel 2013, 3.850 nel 2014, anno in cui il virus è risalito in tutta Europa, e 3.444 nel 2015. Dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità emerge che il 77% dei fiero positivi è maschio ed è in salita la diffusione per via omosessuale. Sono 18 milioni nel mondo le persone in cura, ma altrettante non riescono ad accedere alle terapie, molto costose. Da oggi è disponibile in farmacia un test fai-da-te per rilevare la malattia, costa solo 20 euro. Non ci vorrà una ricetta del medico per averlo, esattamente come per il test di gravidanza. Però da alcuni settori si esprimono perplessità sull'autodiagnosi nel caso dell'AIDS e chiedono che sia obbligatorio il ricorso al medico curante o a un centro specialistico se per caso l'esito fosse positivo.